Buongiorno, oggi girettino al mercato con la mamma. Eccomi rientrata a casa con qualche acquistino, adesso proviamo e vi faccio vedere. Allora, primo acquistino che mi piace tantissimo è questa giacchetta che in realtà è anche abbastanza leggera, sembra pesante ma non lo è, però è anche carina da mettere appunto come giubbottini in questa stagione. Questo color, non lo so definirlo, ho messo tra un cioccolato beige, tipo teddy, mi piaceva tantissimo. E l'ha presa anche mia mamma, però tipo color più crema. Super carina, questo mi piace tantissimo. E quella l'ho pagata a 20 euro, però secondo me ne vale. E poi ho preso questo maglioncino grigio, che adesso proviamo. E un pantalone, spero mi vada bene perché io questi li adoro. Oggi sono andata un po' più di grigio. Allora, questo è l'outfit completo. Il maglioncino grigio, che vi dicevo molto semplice, è un po' over. Però adesso in realtà vestendomi è... si è messo un po' tutto così lui. Però comunque molto lungo in realtà, ma carino. Poi lo volevo uno grigio così. Quindi ha provato, ma penso che anche ha provato i pantaloni. Sono quelli tipo l'anettina, che già ha un po' di stagioni che vanno di moda. Ma mi piaceva un sacco il fatto che erano larghi. Io di solito non li trovo mai perché sono una nana. Invece questo banco ha le cose quasi forse più per nani che per persone di media altezza. E poi grigio, boh, non lo so, mi ispirava un sacco. E devo dire che nel complesso non rende il colore. È molto più bello dal vivo, ma mi piace. E se non sbaglio, il pantalone 15 e il maglione 10. Quindi 25 questo completo qui e la giacca 20 euro. Comunque ha pagato la mamma, la regala sulla mamma. E niente, sono molto contenta anche di pantaloni. Perché comunque a prescindere sono belli anche per andare in giro, ma anche per casa. Sono comodissimi. Io ne avevo un completo sul marrone, felpa ai pantaloni. Però non mi piaceva perché quelli dopo un po' che li indossi praticamente prendono la forma delle gambe, del ginocchio, eccetera. Invece questi essendo larghi sul fondo, secondo me rimane un pochettino più... Cioè che perde di più, diciamo, la forma che ha preso. Quindi non lo so. Mi ispiravano. Ho detto dai, li devo prendere. No, ho fatto bene anche a prendere questo colore grigio perché mi stanno bene. Allora, la mia migliore amica stamattina le nove mi ha scritto, mi si sono rotte le acque. E io, ok, va bene, dai, andrà tutto bene. Mi aspettavo già come l'altra mia amica che siamo stati in ballo una giornata e mezza. Adesso mi manda una foto dopo tre ore neanche con lei e il suo compagno. E io ho detto, ah dai, è tutto bene, sarà lì aspettando. E poi vedo che c'era già il piccolino. C'era già fatto tutto, fantastico. Benvenuto piccolino, il piccolo Leo. Sono stracontenta. Allora, so che la polenta già pronta non è come quella fatta in casa, però oggi per emergenza così l'ho fatta tipo un po' fritta col burro e le uova e il formaggio grattugiato. Una bomba. Adesso ho bevuto il ginsenghino. Sta arrivando adesso mia nipote esattamente ora dal... Sapevo che avrebbe suonato le suona sempre. Chi è? Dall'asilo. E niente, quindi pomeriggio con lei. Allora, io mi sono un attimo persa via con l'arrivo di mia nipote. Poi sei in realtà subito addormentata. Avevo dei messaggi da ascoltare da alcune mie amiche. Mi sono nemmeno addormentata anch'io. Ora vado a fare una merendina. Perché poi stasera finalmente vi posso svelare che cosa andrò a fare. Ho una festicciola sorpresa come baby shower per l'altra mia amica che sta aspettando il secondo bimbo. Anzi, meglio, bimba, Camilla. E le ho preparato, fra l'altra, torta di pannolini a tema panda. Perché lei ama i panda. E molto semplice. In realtà avrei voluto fare di più ma non avevo il materiale, le cose. Quindi è andata così. Già è stato tutto un po' incasinato questo baby shower. Eravamo programmato un po' di tempo fa. Poi mi hanno dovuto rimandare. Insomma, stasera è il giorno. E niente. Quindi adesso faccio una merendina. E poi dopo mi preparo per andare. Così allestiamo un po' di decorazioni. E poi mangeremo giusto una pizza, una tortina tra amiche. E così, insomma, festeggiamo anche l'altra mia amica. E quindi questo, insomma. Oggi è proprio giornata autunnale qui. Quindi ho inaugurato proprio le mie tisanine da pomeriggio. E ho sentito la mia amica che adora anche lei questa tisana che ho usato oggi. E lei è in Spagna con 30 gradi. Pazzesco. E niente. Mi è venuta voglia anche di farmi le unghiette di un colore autunnale stupendo. Quindi ora mi preparo. I colori che di solito faccio in questo periodo sono questi bordeaux. Molto belli. Autunnali. In realtà ne ho un altro un po' più chiaro. Però mi sa che andrò con questo. Ho questo qui. Adesso poi li provo su. Unghiettine fatte. Super carine. Super contenta. E niente. Adesso mi preparo per poi andare dalla mia amica a fare questa festicciola. E niente. Vado spremiata dalla mia nipote. E finalmente ha deciso di svegliarsi. Mi sono preparata al volo dopo aver giocato un po' con mia nipote e palloncini. Questo è il mio maglioncino di oggi. Giacchettina non rende comunque stupenda. E scappo. Vado dalla mia amica. E comunque questa è la torta di pannolini. Super delicata. Qui è tutto pronto. Non si vede. Spegnete o non si vede. Ah guarda. Non si vede anche senza cucciola. C'è un po' di palloncini. Vedi? Vuole tagliare la pizza. Sì. Tantissimo. Allora. Serata terminata. Siamo anche andate a prendere la pizza. Io e la mia amica. Abbiamo mangiato la torta. È stato tutto molto bello. La mia amica si è divertita. Non se l'aspettava. E niente. Adesso abbiamo chiacchierato un po'. Si è fatto tardissimo. Tra l'altro l'altra mia amica deve tornare a Milano. Quindi ora andiamo a casina. Io pronta per andare a letto. Noi ci vediamo domani. Come sempre qua vi lascio i miei social. E vi ricordo di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Lasciate un like a questo video. E vi do appuntamento domani. Ciao.